...molto forte d'opposizione come quello del Movimento 5 Stelle che viene raccontato ai nostri microfoni da Laura Castelli, sentiamola. Per noi le province andavano abolite, questa non è una riorganizzazione ma un peggioramento totale di quella che è la situazione, oltretutto senza nessun concetto di democrazia perché la città metropolitana è tutto tranne che democrazia. Il sindaco della città metropolitana non sarà scelto dai cittadini ma dai sindaci delle città stesse. Si sposta al Senato direttamente da lunedì, anche lì forse non avrà vita facile.